Fabrizio, ma perché il condizionatore in del B? Perché ha 12 volts. Grazie, prego. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Limpocamper. Come avrete sicuramente intuito, oggi parliamo di una cosa particolare, ovvero parliamo di condizionamento. Ma di un condizionamento particolare. Ve l'ho già presentato e vi metto il link qui sulla vostra destra. Abbiamo fatto una visita allo stand della Indel B e abbiamo parlato di questo condizionatore. La caratteristica principale di questo condizionatore è che è alimentato a 12 volt. Lo andremo ad installare su un veicolo relativamente corto, quindi su un van, nella parte posteriore. L'ambiente migliore sul quale si può installare sicuramente. Lo andremo ad analizzare in maniera completa, ne faremo l'installazione e poi nella parte finale. Vediamo un attimo se Fabrizio ci darà una mano. Lo testeremo in maniera, diciamo, sentiremo le sue esperienze più che altro, visto che lui sta per partire per andarlo a testare. Prima di fare ciò iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Per prima cosa andiamo ad analizzare la parte centrale con la sua forma e devo dire che le superfici sono molto belle, molto molto, diciamo, da un senso di premium e all'interno di questa cassa ovviamente c'è il compressore a 12 volt, c'è l'evaporatore, il condensatore, tutta la parte della ventilazione e chiaramente ovviamente nella parte interna il foro rettangolare che, vabbè, ve lo faccio vedere ma eccolo qui, ve lo faccio vedere anche da sotto, l'apertura per la fuoriuscita dell'aria calda, la ventilazione per il raffreddamento e questa è l'apertura nella quale fuoriesce l'aria fredda che poi viene diffusa all'interno del veicolo. Questi due cavetti servono per collegare il diffusore, quindi la mascherina interna, mentre invece questo è il cavo che serve per l'alimentazione che vedremo sarà dotata di cavi molto generosi. Una particolarità di questo condizionatore è che è stato predisposto sia per il montaggio con il passaggio del cavo internamente, sia per il passaggio del cavo esternamente. Logicamente questi cavi sono cavi di generose dimensioni, mi sembra che siano da 16 mm quadri perché logicamente la corrente che dovrà passare, essendo un condizionatore 12 volt, sarà abbastanza importante. In base a quest'idea adesso ci andiamo a guardare un pochino le caratteristiche tecniche, quindi mettiamo l'unità che andremo a installare successivamente, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche prendendo il nostro libretto che ci viene fornito. Questo è il libretto di installazione, quindi viene fornito un libretto di installazione e un libretto per l'utente ovviamente. Nel libretto di installazione ci sono le caratteristiche tecniche e tutta la componentistica che ci viene fornita, oltre a tutti i disegni e le istruzioni per l'installazione. La cosa più interessante ovviamente è che la tensione è 12 volt, questo è logico, il compressore è a corrente continua, singolo compressore, la carica del refrigerante sono circa 400 grammi, questo è un dato che interessa poco, la potenza massima sono 1200 watt, potenza frigorifera intendiamo e questa è la cosa più interessante che la corrente media di lavoro è circa 42 ampere, mentre quando siamo in condizioni di tra virgolette riposo, quindi di minima potenza, possiamo scendere anche a 16 ampere ora. Questo è interessante soprattutto ne parlavamo anche con il responsabile di sera, di notte, quando noi non abbiamo bisogno di tutta questa potenza, quindi abbiamo bisogno semplicemente di un'atmosfera piuttosto fresca, ma non dobbiamo portare il veicolo a temperature veramente basse, quindi diciamo il consumo è accettabile, chiaramente questo ci permette di poterlo utilizzare sia in marcia sia in sosta, ovviamente io vi consiglio soprattutto in estate, nonostante gli assorbimenti siano tra virgolette bassi, è ovvio che il consumo energetico è comunque abbastanza importante, quindi è necessario comunque un impianto importante secondo me dal punto di vista energetico, quindi io consiglio comunque di abbinarlo ad un impianto litio, per evitare di rimanere delusi dal prodotto è necessario sicuramente una scorta energetica importante. Altre cose interessanti, pesa 23 kg, ha tre velocità di ventilazione, la portata di aria sono circa 350 metri cubi ora, ha logicamente la funzione soft start, ha i filtri d'aria sostituibili e vabbè qua ci dice la lunghezza ottimale del veicolo circa 6 metri, quindi noi lo andremo a montare su un van, è assolutamente perfetto. Mettiamo da parte l'unità che abbiamo in realtà sul tetto nella parte esterna e andiamo a vedere che cosa ci viene fornito oltre all'unità all'interno dello scatolone. Due buste, nella prima busta abbiamo tutta la parte del cablaggio, guardate di che cosa stiamo parlando ovviamente, rispetto ai cavi che vengono utilizzati per il condizionatore a 220 volt è completamente un'altra cosa. Eccoli qua, cavi, avevo detto 16, avevo detto 16, avevo detto bene, quindi è un cavo da 16 mm quadri, ci viene fornito in dotazione con chiaramente i capi corda e il fusibile, ovviamente c'è anche già inserito il connettore. In caso di montaggio esterno, ovvero cavo che passa all'esterno del tetto entra nel condizionatore, nella parte posteriore c'è una piccola modifica da fare e quindi si può fare comunque, non è detto che debba passare necessariamente all'interno del tetto, quindi se non troviamo il posto possiamo sicuramente passare dal tetto, leviamo questo connettore, mettiamo i capi corda e lo colleghiamo direttamente dentro, c'è una piccola appunto modifica da fare sia nella parte posteriore dove entra il cavo, sia levando i cavi all'interno. Quindi questa è la parte diciamo di potenza del condizionatore. Altra bustina, tiriamo fuori, oltre alle varie istruzioni di montaggio e manuale utente abbiamo il telecomando, telecomando con il porta telecomando, poi abbiamo chiaramente ci danno anche le batterie, questo va col telecomando, una guarnizione che serve per essere messa attorno alla bocchetta rettangolare che fa fuori uscire l'aria dall'interno del condizionatore, le viterie che serve per il fissaggio, un po' di adesivi carini, devo dire che la scritta Offer non è per niente male, l'avevo notato anche l'altra volta. Prendiamo adesso tutta la parte delle guarnizioni, questa è una cosa particolare perché è una guarnizione che verrà posta sul classico bloc 4040, non l'ho detto prima, mi sembrava ovvio, ma il dispositivo può essere installato sull'olio bloc 4040, ovviamente il classico bloc, più ci sono dei pezzi ritagliati come vedete che sono i supporti che vanno messi nella parte posteriore destra e sinistra e servono per fare in modo che il condizionatore si trovi in piano sul tetto, quindi sono semplicemente degli spessori. La prolunga del diffusore, questa serve solamente da altezza di tetti da 30 a 70 perché questo condizionatore ha questa escursione per quanto riguarda lo spessore dei tetti, nel caso di fino a 30 non è necessaria, quando arriviamo a 70 mm, quindi 7 cm, la utilizzeremo tutta, in caso di 50, 40 eccetera la taglieremo a misura in funzione di come ci serve. Nel nostro caso non servirà perché il tetto sarà proprio 30 mm. E poi avremo il nostro diffusore, lo apriamo per bene, lo vediamo, tanto dobbiamo scartarlo comunque. Eccolo qui, devo dire esteticamente molto bello, molto elegante. Ok, eccolo qui, parte posteriore, ha il parzializzatore, come vedete da questa parte, eccolo qui, è molto molto semplice, è semplicemente un traslatore che trasla l'aria o davanti o dietro, l'IR praticamente è la potenza, la potenza, diciamo il controllo. Nella parte anteriore abbiamo le quattro viti di fissaggio, poi abbiamo i filtri che vengono inseriti lateralmente in questa maniera, in modo da garantire una sufficiente quantità di aria e che sia oltremodo filtrata. Abbiamo detto che il dispositivo funziona a 12 volt, ma c'è la possibilità di utilizzare questo kit, ci danno anche le istruzioni di collegamento, ma sono veramente molto 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 semplici. Non è nient'altro che un alimentatore a 12 volt che ha la potenza necessaria per poter alimentare appunto questo dispositivo. Ok? Quindi eccolo qui. Quando siamo collegati alla 220 volt ovviamente ci servirà, se vogliamo, utilizzare questo alimentatore per il collegamento, per alimentare e per far andare il nostro condizionatore. Ovviamente fornirà più della potenza necessaria, questo è un alimentatore da 56 ampere che è più che sufficiente per mandare il compressore e tutto il sistema di ventilazione del condizionatore a 12 volt. Altra cosa mi ero dimenticato, la cornice in metallo in acciaio inox che viene utilizzata in questa maniera, che serve praticamente come supporto tra il condizionatore, come interfaccia tra condizionatore e il diffusore. Questo è quanto, adesso andiamo nel camper da Fabrizio che mi sta aspettando, fremendo e lo andiamo a installare. Eccoci qui in corrispondenza del camper dove dobbiamo applicare il condizionatore. La prima cosa che è da fare, come state vedendo in questo momento, è che sta eliminando il mini-echi posteriore che fortunatamente è semplicemente fissato con del terro stato, quindi basta tagliarlo e si rimuove. Quindi abbiamo individuato qual è la posizione di installazione. Cosa molto più importante adesso è il passaggio dei cavi. Abbiamo deciso comunque di farli passare all'interno del tetto. Abbiamo individuato che sul lato destro del veicolo c'è una paratia inclinata a 45 gradi, più o meno, che è adatta alla copertura dei cavi che passeranno. Essendo di generose dimensioni chiaramente bisognerà prevedere un passaggio comodo. Quello ci sembra adeguato, quindi procediamo, adesso me li sta procedendo, a forare il tetto nella parte centrale dove vedete che abbiamo i listellini che ci fanno da spessore del tetto, entriamo dentro e sicuramente scenderemo lungo il frigorifero e ci collegheremo in batteria. La batteria si trova sotto la dinette e qui abbiamo il punto in cui installare anche l'alimentatore. Abbiamo però questo ragazzo nuovo che ci sta dando una mano per l'installazione. In realtà è Fabrizio che, essendo molto manuale, ci coadiuva in questa installazione. Grazie a tutti. 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 di fare i collegamenti elettrici quindi possiamo provare ad accendere il dispositivo è chiaro che stiamo in un ambiente piuttosto freddino abbiamo provato a scaldarlo un po per cercare di far partire il condizionatore allora il pulsante importante per questo condizionatore al di là del fatto che noi abbiamo il nostro telecomando che possiamo applicare dove vogliamo con le classiche funzioni di accensione spegnimento di umidificazione eccetera e gestione della temperatura ma possiamo anche utilizzare il pulsante massimo e minimo che è forse la cosa più interessante di tutto il sistema lui parte sempre al minimo e quindi con un consumo orientativamente di una ventina di imper 18 20 ampere dipende adesso abbiamo qualche faremo la prova abbiamo qualche luce accesa per passare alla potenza massima quando noi premiamo il pulsante però considerate che ogni volta lo spendete che lo spegnete lui riparte successivamente con la potenza al minimo quindi adesso iniziamo a vedere registriamo un pochino lo schermo a lavoriamo sullo schunto questo sistema è un impianto al litio lavoriamo sullo schunto avete abbiamo un 99 per cento di batteria e accendiamo il condizionatore condizionatore parte come vedete dalla lucetta verde con il il minimo riduciamo la temperatura il più possibile per cercare di far partire il condizionatore per ora sono solamente 3 ampere di assorbimento ecco qui il condizionatore partito abbiamo abbiamo 18 72 ampere di assorbimento 19 eccetera chiaramente andrà un pochino ad aumentare perché ci sono anche delle luci accese e quindi questo è l'assorbimento al minimo alla minima velocità mi alla minima potenza chiaramente quando farà piuttosto caldo possiamo accendere la temperatura massima adesso non cambia nulla perché la temperatura la differenza di temperatura è troppo bassa quindi non cambia nulla ma in caso contrario quando le temperature saranno parete particolarmente alte noi potremo avere quei 42 circa 40 ampere di assorbimento ok quindi adesso lasciamo abbiamo fatto questa piccola dimostrazione lasciamo il camper a fabbrizio per il suo viaggio inaugurale vediamo che cosa ci dirà ti consegno questo scettro lo scettro con me di qualcosa o che va bene se ti consegno il telecomando fanne buon uso e lui se vuoi domenica andrà in giro giusto e lo proverai e lo proverò e lo proverai e ci farai un po di report e ti farò sapere ok poi in fine alla fine del video vediamo il risultato diciamo di questa installazione vediamo se sarei soddisfatto o meno speriamo bene insomma ma sicuramente sì ok grazie ci vediamo alla fine del video eccoci qui cari amici in questa cornice a greste finta ovviamente traiamo un po le conclusion di questo dispositivo che abbiamo installato ormai diverso tempo fa è fine estate domani in realtà è domenica quindi sto registrando questo video il sabato e lo caricherò oggi per far velo vedere domani in modo che chi va alla fiera avrà la possibilità anche di valutare eventualmente un eventuale acquisto perché no avrei voluto farvi fare due chiacchiere con fabrizio ma per una serie di ragioni contingenti non siamo mai riusciti a sentirci un po non potevo lui un po non potevo io comunque ci siamo organizzati perché mi ha dato delle info delle info relativamente al dispositivo al condizionatore che qua cerchiamo un pochino di riportarvi innanzitutto devo dire che il risultato per quel che gli concerne quindi adattamento di un condizionatore del genere all'interno di un veicolo un van è stato più che sufficiente come potenza sicuramente non ci sono stati assolutamente problemi e anche la cosa che ci interessava poi erano i consumi perché il compressore a 12 volt ovviamente ha dalla sua la caratteristica principale proprio quella di avere dei consumi importanti ma con possibilità di essere ridotti come vi avete visto nella fase di installazione questo ci ha permesso a fabrizio dei pradienti di mantenere il veicolo con il condizionatore quasi sempre acceso soprattutto di notte quando in realtà è piuttosto complesso con la funzione di riduzione della potenza del condizionatore questo lo ha trovato devo dire mi ha detto che lo ha trovato molto interessante vi metto questa immagine che mi ha mandato eccola qua in cui si vede sabato 8 12 8 quindi sabato 12 agosto era alle 18 57 c'erano prende 31 gradi all'esterno con 69 per cento l'umidità all'interno al minimo praticamente noi avevamo 26 e come vedete l'umidità è al 56 per cento quindi questo sicuramente è il sintomo della presenza del condizionatore funzionante lui ha detto che comunque sia stava assolutamente benissimo certo la temperatura di 30 di 31 gradi non è esageratamente calda però comunque sia ci abbiamo un delta di quei cinque sei gradi e comunque fanno sempre piacere ultima cosa chiaramente fabrizio ha un pacco batterie abbastanza importante stiamo parlando di 300 ton per ora litio quindi ovviamente nella sua condizione è logico che si può permettere questo tipo di condizionatore con mantenendolo acceso praticamente tutto il giorno insomma con delle pause ma insomma fondamentalmente giusto quando non uno lascia il veicolo ma sostanzialmente quasi tutto il giorno ok quindi con condizionatore in del b in questo caso abbiamo ottenuto un ottimo risultato quanto meno il nostro cliente contento e questo è la cosa che ci fa più piacere e ci rende più soddisfatti per oggi chiaramente è tutto ci vediamo da nella settimana entrante io sarò in fiera tutta la settimana se volete chiamate ai numeri di cellulare che conoscete bene sicuramente se ci vogliamo salutare non c'è assolutamente problema mi fa senz'altro piacere però come al solito se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo e come al solito ci vediamo alla prossima grazie